che hai detto scusa domani che hai detto che hai detto che serata qua ho ripreso ho ripreso se mi sarei andato metti sul tavolo perché sennò tornato tutto addosso quando le sono fatte 30 anni ti vieni amiche mie hai fatto un progetto? perché mi sono usciti i numeri gli ultimi tre numeri uno e due l'altro un mante bianco ma io le sono fatte perché non c'è la cugnata ma maura perché venerdì maura non c'è bene non c'è bene non c'è bene ma ora non c'è bene non c'è bene non c'è bene